Facciamo il primo esercizio. Mi unisco di matita? Sì. Quanti metri in un ettometro? Quanti metri in un ettometro? Raffaella e la matematica sono due robe completamente diverse. Quanti centimetri in dieci? Millimetri? Lei non c'è scritto, devi provare a ragionare. 0,001? Pensi a Righello. Dieci. No, stai praticamente dicendo che un millimetro è uguale ad un centimetro. Ma il millimetro è più piccolo. È molto più piccolo. Cinque. Quanti millimetri ci sono in un centimetro? Allora, se un centimetro equivale a 0,01... No, ragazzi, non l'ho capito. No, ma se gli entrava in testa che in un centimetro c'erano dieci millimetri. Guarda, c'è il righello. Ok, perfetto. Ok. Guardi le lineette. Ma li devo contare tutti. Quanti centimetri ci sono in dieci millimetri? È lì, veramente. Non sappiamo più come fare. Lì adesso sta contando i centimetri. Aiutami! Sì!